preferite che vi legga le carte o la mano? vabbè dai, dai le carte a tutte e due, prova a fare veloce bene, le carte siano vabbè dai, 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 dai non sapete cosa mi sta per succedere domani non sarete più gli stessi sono morti naturali trasparerti morti nel mondo dei vivi se li incontrerete non fuggiti e notti domani dovrete sottostare alla loro richiesta non sapete non sapete non sapete aspetta, mi è arrivato un messaggio senti ma te ci credi a quella lì? tutte cazzate dici, sembrava convinto ovvio, è il suo lavoro va sarà comunque credevo parlasse tipo di fantasma te ci credi di fantasma? no tutte cazzate anche quelle però pensare che bello deve essere fluttuare in giro molto meglio essere figo e bello ma fottiti va tutto a posto grazie che cazzo è? che cazzo è? è un scatto di fantasma oh bella abbiamo segnato non direi non direi no non direi non direi ma Questa pizza è fantasmagorica, è già proprio buona. Grazie per la visione!